C'è molta partecipazione, è una manifestazione sentita, voluta. Ringrazio tutti coloro che ogni anno ci onorano della loro presenza. Noi cerchiamo di fare il meglio, sia dal punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista di organizzazione della Prologue. Ringrazio ancora una volta tutti i tanti valutariati che ci permettono di riuscire a queste manifestazioni. Questa è una manifestazione che siamo alla 29esima edizione, ma nello stesso tempo non è una manifestazione come tutte le altre. È una manifestazione dove coinvolgiamo la regione, direi anche a livello nazionale. Stasera con mano ho toccato presenze di città del Nord Italia, presente qua, che mi dicono che ogni anno vengono alla principessa questa manifestazione perché ogni anno è sempre più affascinata. La soddisfazione è immensa, significa che ancora l'entroterra può offrire la vera genuità sia delle manifestazioni sia per quanto riguarda l'aspetto di accoglienza. Questo ci riempie di orgoglio e che dire, continuiamo così perché è una manifestazione che porta tanto tessuto sul territorio che va a integrare quelle che sono le economie del territorio. Grazie. Grazie. Grazie.